Cari lettori, siete curiosi di sapere quali sono i film in tv nella prima serata di giovedì 22 giugno, che prendono vita dalle pagine dei libri? La vostra rubrica giornaliera è pronta a presentarli. Dal libro L'avventura del Poseidon di Paul Gallico, il film d'azione e avventura Poseidon, in onda sul canale Iris alle ore 21. Dal libro Flipped di Wendelin Van Dranen, il film Commedia Flipped Il primo amore non si scorda mai, in onda sul canale la 5 alle ore 21 ed è. Ora vediamo i dettagli. La trama del film Poseidon. Dopo che una gigantesca onda anomala rovescia una nave da crociera nel nord atlantico, i sopravvissuti si uniscono e attraversano un percorso pericoloso in un labirinto capovolto, sperando che li conduca alla salvezza. Mentre la nave naufragata si riempie d'acqua, i sopravvissuti devono fare appello a forze e abilità nascoste per affrontare la lotta della loro vita. La trama del film Flipped Il primo amore non si scorda mai. In seconda elementare, Julie Baker si innamora istantaneamente del suo vicino di casa, Bryce Losky. Bryce, però, non prova la stessa scintilla. Da quel giorno in poi, lui fa del suo meglio per tenere a distanza Julie che è audace e imprevedibile. Dopo sei anni, Julie comincia a sentire di essersi sbagliata riguardo a Bryce, credendo che lui non sia l'amore della sua vita. Purtroppo, è proprio in quel momento che Bryce inizia a pensare di essersi sbagliato anche egli su Julie. Se sei un appassionato di adattamenti cinematografici tratti da libri, non puoi assolutamente perdere questa rubrica giornaliera. Ogni giorno troverai i film trasmessi in prima serata che prendono vita dalle pagine delle opere letterarie, offrendoti un'esperienza unica e coinvolgente. Ti invito gentilmente ad iscriverti al canale per non perdere nessuna novità e offrirti sempre nuovi spunti e consigli interessanti sul fantastico mondo dei libri. Grazie, un caro saluto.